Presentata a Bari, la sesta edizione della rievocazione storica venne a Bari matrimonio di un giorno di mezzo ottocento. Una pagina di storia del capoluogo pugliese prenderà vita domenica 3 marzo tra Corso Vittorio Emanuele e Lungomare Nazario Sauro, grazie all'associazione Stella del Monte. Nel 1859, quando Bari era una grande città preunitaria del Regno delle Due Sicilie, ospitò l'incontro tra il principe Francesco di Borbone, e divenuto poi ultimo re del Regno delle Due Sicilie con il nome di Francesco II e la sua futura sposa, la principessa Maria Sofia di Baviera, sorella della più nota imperatrice Sissi. Il periodo in cui venne il re e fece il giro da Napoli verso le Puglie per organizzare, anche per organizzare questo matrimonio, lui si interessò di tanti benefici per la città, l'ampliamento del Porto Nuovo, la continuazione della costruzione del Porto Nuovo che era già iniziato, era stato da poco consegnato il Teatro Piccini e contemporaneamente la chiesa di San Ferdinando, da parecchi anni già esisteva il Palazzo delle Missioni, un'opera sociale possiamo dire. La istituzione del terzo banco, una cassa della borsa, una camera del commercio, quindi come dire che i Borbone non hanno fatto del bene, del bene sociale, del bene economico, del bene culturale.